Sono stato coinvolto dall'amico Maurizio Lupi con cui condivido una decennale amicizia ma anche una condivisione sulla politica, sullo posizionamento, sulle prospettive, lo sviluppo del territorio a livello nazionale ma anche a livello abruzzese. Maurizio è un abruzzese, è di origine abruzzese, la madre di Fossacesia e per l'Abruzzo ha avuto sempre un'attenzione particolare. Oggi credo che più che mai ci sia bisogno di un'area liberale moderata tradizionalmente cristiana all'interno del polo conservatore io non lo chiamo nemmeno di centrodestra perché del polo conservatore in linea con quello che c'è in tutti i paesi europei e anche nel blocco occidentale. Questo noi abbiamo l'ambizione di rappresentare. Noi avevamo un orizzonte di sei mesi e questo orizzonte si è drasticamente accelerato, cioè avvicinato quindi in questi giorni comunque avevamo coinvolto tanti amici ci sono tanti amici che comunque ci hanno dato disponibilità, diciamo ex politici, politici e non. Ad esempio abbiamo un buon gruppo sull'Aquila, c'è Alfredo Masci Grande che è stato il più votato all'Aquila ed è consigliere comunale che sicuramente sarà fra i candidati. Abbiamo l'ex assessore comunale a Teramo, Rudi Di Stefano, la dottoressa Pollice sono persone che hanno dato già la loro disponibilità. Naturalmente le candidature verranno fatte nei prossimi giorni prendendo in questa platea ma anche ci sono tanti contatti in corso. Anche perché rappresentiamo oggi di fatto la quarta forza del centrodestra in maniera dovrebbe essere anche abbastanza unica nel senso che oltre ai tre partiti grandi ci saremo solo noi grazie a questo accordo anche con Toti e quindi contiamo di polarizzare il voto moderato del centrodestra.